Sì, eccomi che c'è. Ci hanno attaccati, in forze, ripugnanti. Una ventina, se non di più. Cazzo di ripugnanti. Hai presente la ragazzina a cui tieni tanto? Sì, Lisa. Aspetta, che le è successo? Dov'è Lisa? Andata. L'hanno rapita con la fita. Al-Qaeda ha inseguiti finché ha potuto, ma sono asserragliati nel cratere di Perna. E' tornato indietro a radunare uomini. Cristo, che ascolta! Ho visto come riducono i loro ostaggi! Non posso aspettare! Non ho visto come riducono i loro ostaggi. Senti, dove cazzo è la ragazza? Se le avete fatto del male, giuro che... Ma che dico! Vi ammazzo come cani, anche se non le avete fatto nulla. Resisti, Lisa. Arrivo. Che cos'è? È di Lisa? Di sicuro non appartiene a uno schifoso ripugnanti. In pronte minute, le ragazze devono essere di Lisa. L'hanno trascinata da questa parte. Se le avete fatto del male, le volete figlie di un cane. Vi uccido dal primo all'ultimo. Questa è la primavera. Sì! Perché non segui tu il cammino? Sono morti, idiota. Non si uniranno alla tua maledetta setta. Non si uniranno alla tua maledetta. E' a terra! E' a terra! Ok, andato. Ecco di lui. Devo arretrare. Ecco di lui. Ah, ah, ah. Qui, l'hanno trascinato qui dentro. Servono munizioni. Dio santo, che diavolo avete in quella testa a marcia? Cosa? I redenti dominano il mondo, eh? Non se sono tutti morti. No, non è qui. Dove sei, Lisa? Deve essere da qualche parte qui fuori. Come tutti, ma penso con la mia testa. Seguo il cammino, ma modo mio. Ascolto Carlos e operisco. Seguo i redenti. Io vengo dalla California. Ehi, guarda, sei stato prescelto, eh? Sta cercando il cammino. Sì, guarda, sei stato fuori. Andiamo, andiamo, andiamo. E a terra, e a terra! Finalmente. Resisti, Lisa. Qualsiasi cosa cerchio di farti, tu resisti. Si è stimato. Lisa, vengo a prenderti. Si. Sei il redento. Sei il redento! Fuoco! Fuoco! Cedi all'obbligo! Posso coprirti! Sono ferito! Mi ha preso! Fugge dal suo passato! Non cederai all'obbligo! Tagliamolo! E mi accengo! 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 Andiamo! A-ah! Riggimelo! A retro, copritemi! Cerca un cappino! Buono! Necessario! Spero non ti dispiace. Vediamo. Qua su. L'hanno portata qui. Lise deve essere lassù. Sta arrivando, piccola. Ora sei mio. Resta lì, fratello. Aspettami! Cerca il cammino. Ti ha preso! Ok. 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 Perciamolo. Perciamolo. Servano più a me? E chiudalo! Ma dov'è? Ecco l'ho! Mi muovo. Avanziamo! È un... Sei smarrito! Ah, sono smarrito! Merita l'oblio! Credi all'oblio, stronzo? Sì, voleva! Ok, Lisa! Ok, Lisa! Oh, cazzo, che ti hanno fatto? Lisa! Lisa! Ehi! Nicola! No! No! Zitta! Zitta! Lisa, sono io! Sono Deacon! Ricordi? Deacon! Dio! Ok! Ascolta! Va tutto bene! Tranquilla! Forza! Stai bene? Cazzo, riesci a correre? Sei dov'è il centro visitatore? Ok, la mia moto è lì. Bene, adesso devi correre più veloce che puoi senza fermarti. Senza fermarti? Sì, non fermarti in nessun caso. Pronta? Eh? Vai! Sì, non fermarti perché parla! Vale, ecco! Questa! 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 Non so, non so, non so. Possiamo farcela. Aspettilo. Ascendere all'obligo. Attenzione. Sua è la redenzione. Spanfati ora. Lisa, scappa. Ripugniamo te. C'è la redenzione. Ciao! Ora! Vai, vai! Sì! 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 Vai al centro visitato, io... Sì! 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 Vai alla mia moto! Corri! Siamo al sicuro. Stai bene? No. Adesso ascoltami, ok? A sud c'è un accampamento, Lost Lake. Non è come quello di Hot Springs. Iron Mike è diverso dalla signora Tucker. Odiavo, la signora Tucker. Beh, non saresti la sola. Quello è un bel campo. Ed è un rifugio sicuro. Ok. Leggiti. Ricky, rispondi! Ricky, usi ancora questo canale? Lost Lake, rispondete! Dicono. Da quanto tempo? Che cosa vuoi? Senti... Incontriamoci, ok? Sulla super strada delle Cascades. All'incrocio con la vecchia strada per Benna. Io sto arrivando. Sai chi ha detto Mike quando tu e Buser siete andati via da qui? Ah... Sì, quello. È proprio per questo che ho chiamato te e non schizzo. Iron Mike non deve venirlo a sapere. Ho una ragazzina con me. Cosa? Cioè, non una ragazzina. Una superstite. Vive qui fuori da parecchio tempo. Hai una superstite e... Vorresti portarla a Lost Lake? No, sarai tu a portarla a Lost Lake. Io la consegnerò a te. Ricky, ci sei? Sì, ok, parto subito. Lost Lake, chiudo. Ricky? Sì, ok, prego. Ti piacerà molto stare lì. Come ti ho detto, questo Iron Mike è un tipo a posto. Ha il vizio di urlare, ma tu non lasciarti spaventare, capito? Eh... E comunque c'è un ragazzo che si chiama Schizzo. Dovesse infastidirti. Tu avvisaricchi. Oppure parlane con Eddie. È il medico dell'accampamento. Dillo a lei. Eh... Eddie è in gamba. Ha dei farmaci e tutto il necessario per medicare quei tagli. Meglio non rischiare un'infezione, giusto? Loro ti aiuteranno, puoi fidarti. Anche nel caso in cui, che so... ti cacciassi in qualche guaio. Bene. Ehi, Ricky. Ehi, Dick. Che sorpresa. Che c'è, Tucker non tratta più gli schiavi? Eh... Ah... Lisa, questa è Ricky. Lei ti... Porterà in un luogo sicuro. Le regole non sono cambiate. Dica. Iron Mike non ti darà un soldo per questo. Soldi? Andiamo! Non è per... Scusa. Non sono qui per questo. Non voglio la taglia. Solo prendila e basta. Che l'è successo? È successo che... è stata credita dai ripugnanti. Oh mio Dio. Ehi, Lisa. Ciao. Sono Ricky. Ascolta, ti piace pescare? Io adoro pescare. Non c'è nient'altro al mondo che mi renda più felice. Verresti a pescare con me? Sì? Allora ti mostrerò Lost Lake. È il lago con le acque più limpide... che tu abbia mai visto. E i pesci... Santo cielo! Di mattina i pesci... saltano fuori... tanto così. Vedrai. Ci andremo e ti divertirai un mondo. Ma devi tenerti forte, ok? Pronta? Lo apprezzo. Non c'è un mondo.